Bonari oggi diciamo che diventa la Madonna della Consolazione in seguito all'incidente tragico dove hanno perso la vita Paolo, Mauro e Franco. Sì, è stata una tragedia che ha colpito profondamente la città per il modo in cui si è verificato, per la tragedia nella quale ha gettato una famiglia, ma direi anche tutta la città, nei giorni in cui la città si ritrovava unita per festeggiare il proprio Santo Patrono San Simplicio, quindi è stata sicuramente una festa funestata, una festa diciamo vissuta con luto al braccio, dove alla gioia si è unito anche il dolore, soprattutto la preghiera di soffragio per questi fratelli e una preghiera davvero di conforto, di invocazione di conforto per la famiglia così duramente provata. Tenendo presente che questi sono gli ultimi tre, ma altri due figli giovani erano già morti in condizioni tragiche in passato, quindi una famiglia molto provata e quindi ha bisogno davvero di una speciale presenza di Maria. Tra le tante ragioni, tra i tanti motivi di accoglienza e di preghiera rivolta alla Vergine Santissima c'è anche questo, anzi prima di tutto questo motivo.